Quello che ne esce fuori dal libro, dal racconto autobiografico che ne fa è di una persona, di un uomo, di un intellettuale, di un spessore culturale importante, importantissimo, fondamentale per la storia dell'Italia post secondo conflitto mondiale, in particolare naturalmente per l'ambito storico, che ha sempre cercato di trovare una definizione, non è mai stato né acqua né carne né pesce, quello che ne viene fuori ma è quello che ci ha sempre anche insegnato è proprio di cercare di trovare un'identità e questo libro è un po' il racconto della difficoltà anche di costruirsi una propria identità, un'identità che spazia attraverso la dicotomia in particolar modo dell'io, dei desideri dell'io, delle spinte dell'io influenzate dal contesto, influenzate dalla storia familiare se vogliamo, ma anche un io che deve in qualche maniera confrontarsi con certi paradossi, delle antinomie potremmo dire così, come per esempio mi viene da pensare a quella dell'essere, dell'avere le opportunità di essere un barone universitario, ma in fondo non approfittarne come magari l'identità diciamo del barone come potremmo immaginare universitario potesse avere. Vite vissute no, sono delle opportunità, il racconto di alcune opportunità che sono state colte, che sono state, treni che sono stati presi in tempo, treni che si sono voluti prendere. C'è un episodio molto interessante in cui, adesso forse confondo, forse è nel libro che è stato presentato in occasione del settantesimo compleanno del professore, l'intellettuale militante, in cui c'è una bellissima intervista a Silvio Lanaro in cui racconta come i professori Sneghi ancora negli anni 60, quando era ancora insegnante impegnato politicamente, ma insegnante a Feltre, parte da Bologna alle 4 del mattino per raggiungere la sua scuola. E mi dico ma dove vai? Datti una giustificazione, stai a casa? No, non era il suo modo. Lui era insegnante in quel momento lì, si sentiva insegnante e sentiva il dovere di portare avanti fino in fondo questa sua precisa identità. E poi ci sono delle identità, delle possibilità, delle vite che non sono state magari colte. Quella magari di essere un giornalista, ad esempio, o un politico, ma poi naturalmente magari Valeria approfondirà, perché appunto lascerò a Valeria la prima parte del libro, i primi, diciamo, 12 capitoli. E quindi è un libro molto complesso da questo punto di vista. Il racconto della costruzione, della formazione, ma anche dell'evoluzione, se vogliamo lineare, però con fatica è stata anche costruita un certo tipo di linearità attraverso quella che è stata l'Italia del secondo dopoguerra. E ci sono nel libro anche episodi molto, molto importanti che riguardano la storia, la storia del 68 in particolare. Ma poi anche troviamo delle altre cose che possono essere molto interessanti, in particolar modo il rapporto che poteva avere un professore con l'università e in generale con il mondo culturale. Il rapporto anche con i giovani. Una delle dicotomie più interessanti, qui ci ha sempre parlato il professore, e ha sempre in qualche maniera ricordato anche la forza, la tensione che poteva nascere da queste due polarità. Sono i vecchi e i giovani. Se leggete il libro, o se l'avete già letto, avete potuto notare che spesso c'è una partita a tennis alle volte su alcune cose. E Snenghi però sceglie, è una persona che sceglie, che ha scelto e ancora sta scegliendo, secondo me. Perché nonostante sia un ottoagenario è ancora pienamente attivo, è pienamente sul pezzo, per dirla, in modo più moderno in questo caso. Io non mi dilungo altro, appunto perché volevo lasciare più spazio naturalmente a Valeria, che ha molto da dire sulla prima parte del libro, questa è la parte formativa dell'infanzia, se vogliamo, ma poi quella che poi crea l'identità principale su cui poi si fonda la vita del professor Snenghi. E io mi concentrerò, diciamo, sulla seconda parte, quella più legata alla parte giornalistica, alla parte della, ormai, professore universitaria, della carriera universitaria, quindi. Quindi io lascio subito la parola a Valeria e poi la riprenderò io e lasceremo poi naturalmente anche il professore a rispondere o a dire, appunto, opinioni su anche domande, se non ho capito male, che potranno essere fornite dal pubblico che ci sta ascoltando. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie a quanti hanno voluto assicurare la loro presenza a questa bella iniziativa. Grazie, prima di tutto, alla Biblioteca Civica di Bassano, che ha indetto questa presentazione e che adesso virtualmente ci ospita. Da parte mia un ringraziamento particolarmente sentito va al direttore dell'istituzione bassanese, il dottor Stefano Pagliantini, per l'invito che ha voluto rivolgermi, e all'amico Paolo Pozzato, che si è impavidamente esposto, proponendo il mio nome come presentatrice, e a Paolo Taggini, allievo del mitico seminario del giovedì del professore Snenghi, che condivide la presentazione di questa sera. Per la seconda volta in pochi giorni io mi trovo a tentare di dire qualcosa sull'ultimo libro di Mario Snenghi e per la seconda volta ci tengo a dire che definirlo ultimo è solo un modo di dire, è un modo insomma per segnare il passo d'attesa di noi lettori in attesa delle prossime opere. Il libro che presentiamo è edito dalla casa editrice Il mulino di Bologna, ed è questo, ve lo mostro dal lato della copertina, una copertina che come potete vedere riproduce un'immagine molto bella e suggestiva, anzi seducente. Si tratta di una foto scattata dalla figlia del professor Snenghi, Laura, che ha sapientemente verticalizzato una delle tipiche vie d'acqua di Venezia, con i tetti delle case, almeno tre ponticelli, è tutto un arredo urbano e mentale che ci tiene provvidenzialmente fuori dal circuito o cortocircuito delle solite vedute, quelle cosiddette classiche, incorniciate nelle cartoline che tutti spediamo, abbiamo qualche volta spedito dai luoghi comuni, paesistici del turismo veneziano, non solo di quello morghi e fugge, ecco, che costringe a vedere mille cose in l'ora. Ecco, campeggia insomma in copertina Venezia, anche se questo non è un libro su Venezia, non è il racconto malinconico espossato di una decadenza interiorizzata e funerea. La Venezia che Snenghi racconta per sceneggiare la sua storia, anzi le storie delle sue prime vite, è una città vitale e vivace, animata da mille occasioni di sociabilità e se volete, se vogliamo, ecco, di socievolezza. Ci sono, è vero, anche le partenze e i ritorni, ma in quanto le une e gli altri siano venute concretamente infittendo il dritto e il rovescio del ricamo della vita dell'autore, che come tutti i bravi colpevoli, ritorna sempre sulle scene. Non sappiamo ancora niente di preciso, ma siamo sicuri che sbroglierà matasse storiografiche e sbriciolerà imbalsamazioni mitografiche a partire da testi teatrali, perché il teatro come palinzesto storiografico è uno dei cavalli di battaglia del nostro autore, a partire dalle autosceneggiature di Gabriele D'Annunzio, dal carro di Tespi, dal teatro parrocchiale, dal mettersi in scena di personaggi grandi, medi e minimi dell'otto-novecento. Venezia, il teatro, la letteratura. Alcuni dei fili della trama, le trame anzi, come concreta narrazione storica, capace di andare contro mano alle narrazioni egemoniche, prima che Peter Bruckner teorizzasse la necessità. Io ho detto in un'altra occasione che Venezia è una vera e propria sorgente ambientale del modo di fare storia di Marie Snenghi. E voglio aggiungere a scanso di equivoci che non siamo in presenza di uno storico e di una storiografia veneziano-centrici, ma semplicemente di uno storico e di una storiografia di rilievo europeo a cui Venezia ha fornito e fornisce tuttora un profondo pescaggio di stimoli, di tematiche e attrezzi. Torniamo al libro. Della copertina vi ho detto, adesso dobbiamo dire qualcosa sul titolo. Vite vissute e no, i luoghi della memoria. La prima parte del titolo, vite vissute e no, allude al pentagramma delle esperienze, storie vissute, ma fra i righi del pentagramma anche delle vite non vissute. Quali sono le vite non vissute? Sono le strade che non abbiamo percorso, sono le esperienze che non ci hanno attratto o che ci hanno fatto nascere forti dubbi, le correnti alle quali non ci siamo abbandonati. Quando ci si trova a un bivio, su un crinale, nei pressi di alternative, compresenti e con possibili, si compiono delle scelte, si imboccano dei sentieri, si seguono alcune traiettorie, ci si immerge in alcuni processi tralasciando altri sentieri e altre direzioni di marcia. Ogni volta che si sceglie o ci si lascia andare alla forza di trascinamento delle cose, la nostra storia diventa qualcosa che esclude o depotenzia qualcos'altro. E con le scelte compiute, le vite vissute, ma anche con le scelte non compiute e con quel potenziale di vite non vissute che ogni giorno chi è radicato nel suo tempo affronta o discrimina. Ci sono poi nella seconda parte del titolo i luoghi della mia memoria. Si può dire che i luoghi della memoria individuale siano anche i luoghi della memoria più in generale? Ecco, io direi di sì. E chi di voi conosce i snenghi e i suoi libri sa già che i snenghi è lo storico che mutuando e reinterpretando con originalità un'opera celebre del francese Pierre Norat ha inaugurato il genere in Italia promuovendo un'opera collettiva in tre volumi. Ma forse ai luoghi della memoria c'era arrivato prima ancora di Norat ma di questo non possiamo certamente parlarne stasera. E allora che cos'è in una autobiografia personale sia essa intellettuale culturale contestuale come questa che cos'è un luogo della memoria? Può essere un luogo comune come abbiamo appena detto a proposito di Venezia ma può essere anche un luogo profondo significante come dicono gli intellettuali e chi ha l'autorità per dire quando e perché ci si ritrovi nel primo e quando e perché si riesca felicemente ad animare il secondo chi ce l'ha questa autorità? Lo dice sostanzialmente il lettore che abbia ed esercita un minimo di capacità critica il lettore che quando legge è capace di suo anche di contrastare il passo all'autore senza farsi intimidire dalla compiacenza faccio un esempio secondo voi Bassano è un luogo comune di un compiaciuto e paesano sentimento della memoria locale ossia di quella che Islenghi chiama pseudostoriografia a chilometro zero oppure un luogo di memoria che ha certamente la pregnanza di uno stato in luogo ma anche una proiettività più generale e allora vi leggo quattro righi di un libro di Maria Antonietta Macciocchi un intellettuale docente libertaria e brava scrittrice anche di storia il libro si intitola La forza degli italiani e lo pubblicò la Mondadori nel 1990 questa è la citazione ritto davanti all'hotel trovai Valerio un enorme pacco di giornali sul sedile della sua auto polverosa lui disse si va a Bassano e lo pronunciò come un nome magico ma a me Bassano sembrava solo un ponte e canticchiai sul ponte di Bassano noi ci darei la mano anzi ero irritata perché mi conduce a Bassano fine della della citazione ecco qualcuno penserà e io lo confesso che questo appicchio mi serve solo per tentare una spudorata captazio benevolenza però se noi lasciamo parlare i testi vediamo subito che la scrittrice possiede solo questa immagine della città anzi neanche un'immagine ma solo un verso famoso di un canto di un canto celebre forse quello della Macciocchi non è neanche un luogo comune ma molto meno se vi capita tra le mani quel libro e vi viene voglia di proseguire la lettura vi accorgerete che l'autrice poche pagine dopo compone un capitolo il quinto di questo suo diario di bordo a cui dà questo titolo siamo tutti viaggiatori e cerchiamo l'Italia sul ponte di Bassano e il capitolo inizia così con quella luce di colpo tutto cambiava Bassano è una finestra che si apre sull'infinito architettura scultura disegno tutto sembra essersi dato convegno a Bassano per otto secoli tanto più forte era lo shock in quanto nella mia memoria scolastica Bassano mi era stata consegnata come un luogo aspro dell'eroismo patriottico durante la prima guerra mondiale contro gli austriaci attorno al massiccio del grappa fine della seconda e ultima citazione come avete potuto ascoltare siamo partiti da un testo che si rintanava in un luogo comune e che poi superando quell'angolo visuale molto grigio è limitato ha cercato e pescato altre chiavi di accesso e bussole interpretative e se per conto nostro andiamo un po' indietro un po' avanti attraverso la battaglia napoleonica di Bassano il convegno bassanese della municipalità della terraferma veneta e da lì ci spingiamo al 1848 al 1859 al 1866 e poi ai fratelli Monsignori Scottonna quella Bassano che fra otto e novecento è una fabbrica di giornali a cavallo dei due secoli arriviamo fino al rastrellamento nazifascista del grappa e a quello che in un saggio famoso i snenghi definisce l'esposizione della morte ecco che le cartografie dei fatti e le mappe dell'immaginario si arricchiscono si cercano si costellano ed è quello che a molti di noi anche a proposito di Bassano perché no ha insegnato a fare Mario e snenghi fornendo quadri metodologici direzioni di ricerca capacità di guardare oltre le apparenze vocazioni a scavare oltre lo stato consolidato del piano di strada aguzzando lo sguardo e tendendo l'orecchio il paradigma vale per Venezia o per Bassano per il Veneto o l'Italia o l'Europa il paradigma vale per le vite degli altri e per la propria l'Italia dell'Italia in cammino delle guerre e di certi aspri dopo guerra che a volte iniziano prima delle guerre e sono guerre essi stessi guerre combattute con altri mezzi tracciati del conflitto del riconoscersi e disconoscersi del dovere di esserci e del diritto di non esserci l'Italia e la sua storia insomma che guardate da Montepulciano o da Bassano come ha scritto una volta Snenghi sono sempre uguali riuscendo a essere sempre diverse perché intervengono mille punti di vista mille riduzioni o ampliamenti di scala e se voi leggete leggete il libro che stiamo presentando anche senza conoscere gli altri che l'autore ha scritto ritroverete nella filigrana di questo i semi e i frutti di quello Caporetto il mito della grande guerra i giornali di trincea gli italiani in piazza l'Italia del fascio gli italiani in guerra e scoprirete che anche quando l'autore non li cita non li chiama per noi ci sono e non solo come diretto o indiretto a ganso del suo raccontarsi a titoli e tappe particolarmente felici e suggestive ma ci sono come storia quando esce nel 1994 l'Italia in piazza i lettori scoprono una continuità a cui magari non avevano pensato in precedenza senza bisogno di risalire all'età medievale l'Italia in piazza funziona a ondate contrapposte almeno dal 1848 città popolo nazione chiesa partito fazione dissidenza disciplinamenti comizi scioperi barricate sembra preistoria ma è appena ieri e scoprono altre cose i lettori e cioè che i snenghi attraversando piazze contrade quartieri popolari periferie ma anche campi campielli e campazzi come suona il titolo di un suo saggio è andato a cercare tanti personaggi vissuti ai margini dell'Italia ufficiale compresi cantastorie ciarlatani teatranti suonatori delle bande a cui sono dedicati i due paragrafi centrali e se da qui saltiamo a pie pari visto anche il tempo a un altro grande libro di snenghi storia d'Italia i fatti e le percezioni e leggiamo la pagina dedicata al ceste de Ambris tenente fondatore degli arditi del popolo teatrante valoroso e decorato combattente suscitatore popolare e orologiaio noi vediamo che quella lateralità ed eccentricità dell'Italia in piazza non erano solo reperti polporistici o delizi erudite ma declinazioni a pieno titolo della storia d'Italia di una storia d'Italia a cui concorre persino il gran libro di cucina di Pellegrino Artusi quindi il movimento e le stasi lo stare insieme e le solitudini la coralità e gli assolo la soggettività e il noi difficile lì o me e lì o noi la storia che si fa è la storia che si racconta il senso dell'individualità e la soggettività del plurale la coralità che unifica quelli che prendono posizione e partecipano anche se gli uni contro gli altri armati le grandi epifanie e le tragedie necessarie vite vissute e no i luoghi della mia memoria che libro è dove ci porta il libro parte dai primi ricordi che l'autore rintraccia del bambino che era di un bambino di cinque anni nell'incrocio omicidiale tra la caduta del fascismo l'otto settembre l'occupazione nazista la repubblica di Salò e di un bambino di sette anni quando la guerra quando la guerra finisce recuperi di ricordi che non sono ancora autobiografia è il racconto di diversi tempi di vita e anche di differenti tempi storici una autobiografia che vorrebbe essere differenziata come i tempi e le storie che racconta ossia il più possibile protetta dalle messe a fuoco retrospettive ossia ancora facendo argine al passato che minaccia di franare nel presente come pure al presente che pretende di attraversare il passato e riorganizzarlo renderlo per così dire progressivo lasciando nel cono d'ombra le sfasature e le ferite ecco Isnenghi lo dice anche e mette in campo l'io me per tenere a bada le sovrapposizioni e per vincere la tentazione di raccontarsi su un rettilineo ossia sotto il segno implacabile della coerenza individualistica più che individuale all'ombra della patetica autopoiesi come lui stesso la definisce di venire di essere andato sempre su un'unica strada su una strada unica ecco che insomma anche l'egostoria ha le sue belle gatte da pelare e qui quel tanto di egostoria che c'è si muove e si articola dentro ad un fare storia consapevole del fatto che la storia che si scrive da parte dello storico è sempre qualcosa di meno della proliferazione da cui si selezionano aspetti e problemi il libro ha una tessitura letteraria straordinaria e questo è un fatto del resto a scriverlo è lo storico che ha introdotto in Italia negli anni settanta del novecento l'indagine storiografica a partire dalla letteratura non come fonte o non solo come fonte ma come campo di tensioni di storie possibili e impossibili letteratura in senso ampio ossia narrativa e memorialistica diaristica e foglietti sparsi come vie d'accesso alla storia palinsesto e sceneggiatura storia multipolare a partire dai fatti autobiografici stretti con se stesso da chi si è raccontato in presa diretta o in retrospettiva storia che non si scandalizza di includere gesti eclatanti e rimugini comizi solilopi dialoghi e silenzi al centro della scena e fuori quadro o dietro o dietro le quinte parlando di Snenghi uno dei più agguerriti ed eminenti storici della nostra cività letteraria e storico della letteratura Marino Biondi ha scritto le lezioni vivide e bellissime di Mario Snenghi si leggono come lo sviluppo di un cannovaccio in cui insieme al sapere dello storico e alla perizia del narratore c'è anche la calcolata esibizione del del treatrante come si racconta i Snenghi bambino ragazzo adolescente adulto storico intellettuale militante maestro e compagno oratore civile soprattutto e sempre insegnante come racconta i suoi allora e i suoi poi storia di un bambino ragazzo adolescente prima parte che ha immanente la sua sceneggiatura d'eccezione in una Venezia che comincia a rapprendersi nei giochi e grumi di memoria un ragazzo che inizia a muoversi tra le consonanze le dissonanze circostanti dei genitori dei vicini delle parentele delle amicizie di famiglia che comincia a impratichirsi dei giochi di specchi e rimandi enunciazioni e affabulazioni nonché false piste che gli adulti all'uscita della dittatura dal fascismo e dalla guerra iniziano a disseminare i genitori il loro rapporto con il fascismo o la quantità di adesione al fascismo dentro di loro è il primo click le bretelle le bretelle bianche incrociate figlio della lupa vengono tagliuzzate e smaltite attraverso il water del bagno di servizio un gesto costituente come se gli adulti lo avessero estromesso da possibili o solo potenziali storie di sé e allora è una sua prima vita non vissuta i snenghi balilla il papà Enzo che torna dalla guerra con la sua barba lunga un reduce o uno sconfitto noi siamo abituati a pensare che il reduce di una guerra persa sia automaticamente uno sconfitto c'è stato questo stridore mi domando e badate che è uno stridore comune a tutte le famiglie persino i vincitori a volte si rivedono e rileggono come sconfitti del resto la capacità di individuare e leggere questa dialettica vinto vincitore da Garibaldi in poi è uno dei capolavori critici di snenghi lo dimostra l'attenzione di una vita portata dai snenghi alle storie dei vinti e degli sconfitti una capacità critica originaria se pensiamo al suo primo libro i vinti di Caporetto che esce nel 1967 anticipando d'un soffio la retorica del primo cinquantenario della della vittoria libro epocale che recentemente è stato riscritto in collaborazione con Paolo Pozzato e ci ha dato il sorprendente oltre Caporetto pubblicato dalla Marsilio ancora più sorprendente ma non inatteso sempre insieme a Paolo Pozzato è venuto poi per i tipi del mulino di Bologna il passaggio sull'altra sponda del Piave con i vinti di Vittorio Veneto i vinti italiani di Caporetto i vinti austrieci di Vittorio Veneto ma non è un'algebra in cui i segni positivi e negativi si elidono più semplicemente o più complicatamente è l'orizzonte della storia che si allarga come dicevo Isnenghi nato nel 1938 ha sette anni quando la guerra finisce quanto basta per rendersi conto sia pure sommariamente di essere in un tempo di svolta di essere cioè come scrive e cito testualmente in un'Italia fascista che si svincola da ciò che è stata e che cambia entrando in una terra di nessuno circostanza comune a carattere simultaneo se Venezia è la storia in cui Mario bambino ragazzo adolescente giovincello si muove nella prima parte del libro la storia che in quella strana città d'acqua si vive non può che essere al tempo stesso lunga durata e scarto subitaneo salite e discese a ogni ponte prospettive che sembrano portare lontano e che invece qualche volta si piantano come muli su una riva priva di ponti e di traghetti la topografia veneziana è al tempo stesso una teoria dell'incertezza è una scienza esatta calli ponti campi campielli campazzi rami fondamente riveri rughe rughette sottoporte ghisalizzate piscine la fuoriuscita del fascismo istituzionale non sempre porta con sé un congedo dal fascismo come vissuto individuale collettivo generazionale nonostante gli aggiustamenti dei vocabolari e del lessico delle memorie familiari e sì perché nella prima parte c'è la scoperta della famiglia paterna originaria del Trentino con radicamenti a riva del Garda e sconfinamenti verso Bergamo Brescia e la Liguria e il punto di fuoco è la storia di Enrico Snenghi quello dei mille di Garibaldi al quale Mario dedica il suo Garibaldi fu ferito e il cui nome è poi ripetuto dal figlio di Snenghi uno zio un prozio un ascendente o un semplice omonimo è un mito costitutivo e come abbiamo sempre detto i miti è sempre cose da perditempo analizzarli nel loro fondamento di verità anziché nella loro funzione di assi di aggregazione in Spola tra Venezia e il Garda c'è la storia di dialoghi complicati e di contorte e di contorte reticenze con le donne di famiglia che sembrano impegnate ad espungere dalla memoria familiare quei ragazzi Snenghi Garibaldini o aderenti al partito d'azione e c'è in questo ricamo a tombolo nel dritto e soprattutto nel rovescio una zia Gardense affabulatrice e di suo assai ben disposta a un raccontare in cui lei però sa sapientemente aggirare gli scogli una zia che aggira la storia e raggira il suo nipotino una zia che fa con la memoria sua e del piccolo ascoltatore un gioco delle tre carte folto di filature che non chiudono mai il ricamo resta sempre qualcosa o qualcuno fuori un'omissione o un occultamento a mezzo di svisate e di filature che si perdono e allora Mario ti domando è una scuola anche questa una precoce attenzione alla necessità di non sdraiarsi sulle testimonianze di 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 testimoni che sono invece quasi sempre interpretazioni di interpreti è un'altra domanda questa secondo me non peregrina perché l'autobiografia dello storico presuppone quella del ragazzo e da qui probabilmente la passione indiziaria l'attenzione all'auscultazione dell'universo delle voci comprese quelle dei fantasmi e di più lo sguardo e la penna affinati e scaltriti dalla captazione di un proliferare per disuguaglianza e slivellamenti di autobiografie contestuali con quel che ciò implica e rende inevitabile o anche dovuto mario che ci ha insegnato prima di tabucchi che nello spazio di ogni racconto autobiografico ci sono tracce e semi e frutti di autobiografia altrui e non solo e non tanto e forse neppure un po' sottospecie di poetiche a posteriori si tratta piuttosto di filature autonarrative la scuola è dagli anni cinquanta la cittadinanza di Snenghi con un suo tasso di sociabilità che inizia a consentarsi ad altre sociabilità parallele ma non meramente accessorie o complementari l'oratorio le amicizie l'azione cattolica la fuci che nel Veneto fin dagli anni trenta del novecento ha fornito a molti giovani sotto e attraverso il fascismo la carta di identità di una cittadinanza e di una patria vicarie in quel circuito parallelo e trasversale negli anni trenta un giovane ben noto a Snenghi novello Papa Fava si era imbattuto nella lettura di un libro mal visto dal regime di nuovo sul fronte occidentale questo per dire che quel mondo cattolico era da decenni paradossalmente anche un veicolo di scritture e di pensieri laici nelle origini di Snenghi c'è questo mondo cattolico che fornisce al giovane Snenghi cartografie e bussole ma gli farà maturare dentro anche un grande sentimento di disappunto e di disorientamento il cattolico il cattolicesimo democratico democratico dell'enigmatica Caterina Don Germano sempre sul filo del rasoio della Curia e poi Vladimir Rodorigo che svolge una funzione importante talmente importante che quando poi il corpo a corpo critico con i grandi e seducenti pensatori francesi del personalismo e personalitarismo sembra dover condurre al voto democristiano anziché alla grande rimescolatrice rivoluzione etica che era stata promessa i Snenghi se ne va se ne va con Dorigo che si porta via Mezza Fucci e fonda la rivista e fonda la rivista Quest'Italia di cui i Snenghi diventa redattore con tanto di nome in copertina e collaboratore con tanti di articoli oltre la la copertina anche qui possiamo chiedere si annida la potenzialità di una vita non vissuta di un Snenghi democristiano un pensoso e pensante e fascinoso Martina Zoli Veneto passare attraverso la sociologia e la filosofia francesi per sbucare in terra veneta votare DC era obiettivamente un giro insomma troppo largo e faticoso l'università Padova a lettere classiche i gruppi e le sociabilità padovani tra Liviano Pedrocchi Tribunato un noi ribollente e fibrillante di progetti i giornali le case editrici i libri le riviste da fare ma anche i film un abbozzo di case editrici il rinoceronte la mancata Marsilio di Smenghi l'arrivo del più giovane giovanissimo Silvio Lanaro il polemos il Veneto in cui stare è quello da cui venire fuori l'unione goliardica e i viaggi in Italia che ne conseguono l'avvicinamento al partito socialista nella sinistra socialista ovviamente quella di Riccardo Lombardi e Raniero Panzieri e di Lelio Basso questi ultimi già pencolanti dalle parti di fedeli infedeli prossimi all'eresia e all'ennesima scissione la cosa che alla sinistra da sempre riesce a meglio fare sfioramenti nazionali quindi Lelio Basso e Vittorio Fo le Camere del Lavoro la sua partecipazione alla sinistra del giornale Padovano il Progresso Veneto con quel suo nome bello o brutto ecco non saprei dire ma certo molto ottocentesco e riformista in una regione tra l'altro nella quale i giornali quotidiani per così dire normali sono e ancora a lungo saranno distillati negli alambicchi delle curie vescovili e delle segreterie provinciali della della DC a Padova in quegli anni la figura emergente della sinistra socialista è Toni Negri a Venezia invece la grande amicizia con Gianni De Michelis tra il Lelqua l'incubazione operaista la prescrizione di andare a Marghera fuori dalle fabbriche dove però nessuno si ferma ad ascoltare quegli operai che non hanno mai fatto gli operai un briciolo di saggezza di classe ecco almeno da parte degli operai veri tra le vatacce nel cuore della notte a cui è profondamente renitente vocazioni politico pedagogiste che non si riconosce linguaggi che non fanno amalgama con i suoi gli snenghi in punta di piedi lascia anche stavolta anche questa è una delle vite non vissute ecco certo che sì secondo me poteva diventare ministro o sottosegretario alla pubblica istruzione in quota del partito socialista oppure deputato del PSIUP oppure finire in galera con Tony Negri e Ferrari Bravo quando a Padova viene fatta deflagrare la bomba del 7 aprile 1979 la bomba giudiziaria con i suoi con i suoi teoremi ma soprattutto quella che dilania la sinistra e in cui il partito comunista svolge il ruolo di ausiliario di pubblica di pubblica sicurezza dentro il quale le avversioni e le animosizioni curiosità politiche pensano di imboccare disinvoltamente la via della normalizzazione giudiziaria dimenticando gli album di famiglia di cui invece parla con coraggio autocritico Rossana Rossanda fine d'epoca è ricupero di percorsi in mezzo a questi frattempi insomma altri cominciamenti e frattempi facciamo un passo indietro dopo questo passo avanti il primo incarico di insegnante a Feltre ancora prima della laurea dura pochissimo Mievo la Pisana ma che roba è cosa vuole questo professorino di città preti e ben pensanti scaldano i muscoli il preside comunista Silvio Guarneri li lascia fare ecco fine fine dell'insegnamento prove di piccolo compromesso storico nella provincia veneta ne nasce un libro l'impegno incivile sul mondo operaio rivista socialista lo recensisce uno storico del settecento veneto di formazione torinese Gianfranco Torcellan troppo presto scomparso ecco inizia il quindicennio dell'insegnamento di italiano e storia fra magistrali e istituti tecnici quattro anni a Chioggia con il preside Lucchetta partigiano e gastronomo i famosi stridori che fanno drizzare le antenne ai snenghi ecco leggete il capitolo intitolato ai giorni luminosi di Chioggia finalmente un mini appartamento a Sottomarina con Sandra ex allieva veneziana del professore Snenghi e moglie e compagna per sempre senza di lei la luminosità non solo quella Chioggia non si sarebbe stata è veramente la luce che si è spenta e poi la rivista Belfagor è il cinquantennale Sodalizio con Lallo Russo i quaderni piacentini di Bellocchio le mappe di sociabilità di Mario si dilatano si infittiscono si robustiscono pubblico privato l'esistenziale le dialettiche tra alto e basso le reti l'età dell'innocenza lascia il posto all'età del fervore alla faticata costruzione del noi certo ma con dentro sempre una filigrana elittaria un recupero di individuale non per mescolarsi ma per non lasciarsi andare alla corrente per non farsi per non farsi travolgere difficile dire quanto della soggettività individuale personale difficile dire quanto della soggettività dello storico abbia fecondato il modo di essere dell'uomo e quanto invece della soggettività individuale personale abbia innervato il mestiere e la finezza dello storico camminano di pari passo si tengono si tengono per mano i piccoli borghesi sovversivi tra vocianismo e malapartismo è un certo ritornante professorinismo nella storia d'Italia Ismenghi è andato a scovarseli ma un pochino come tipologie sociologiche e non certo come cloni storici se li trovava anche intorno ecco nera partecipe e se si fino a che punto e poi le trappole della memoria da sventare le immedesimazioni e le disimmedesimazioni cervellotiche o posticce o di comodo contro cui far valere l'attitudine e la vocazione ad analizzare con rispetto chi s'è immedesimato nella storia che voleva o presumeva di contribuire a fare la storia tra risorgimento e resistenza passando per il fascismo e il coacervo di Salò per finire con la stagione astra e sanguinosa del terrorismo e quando qualcuno dice a distanza dai fatti di essersi immedesimato o disimmedesimato Mario ci ha insegnato a sostenere con rispetto ma senza rinunciare a scavare più a fondo perché non è detto che chi si dichiari immedesimato o disimmedesimato esponga un fatto e non un'opinione su se stesso e che noi non si prenda per buona e ha criticamente un'autointerpretazione ecco l'università infine ma non l'ultima le ragioni di una vita e la vita di tante ragioni di viverla così e non altrimenti la cattedra arriva dopo molte peregrinazioni e sbarramenti soprattutto quella strana coppia concursuale Renzo De Felice e Giovanni Spadolini quando le allieve una dopo l'altra vinceranno il premio Spadolini non sarà una rivincita ma un buon motivo per farsi una risata ecco il mito della grande guerra passa alla grande nel 1970 oggi anche negli Stati Uniti si fanno convegni prendendo a prestito quel titolo ma l'accademia fa spallucce cos'è si chiede l'accademia uno storico che usa la letteratura o un letterato che usa dilemma chissà perché non una straordinaria e fruttuosa integrazione euristica pensate un po' che quando esce il mito della grande guerra Giuseppe Prezzolini prende carta e penna e scrive una recensione che esce lo stesso giorno su tre giornali contemporaneamente il Corriere della Sera la Nazione e la Tribuna diciamo che Prezzolini per il libro di Mario si inventò la newsletter alcuni decenni prima di internet arriva la prima cattedra a Torino con Guido Quazza e il dottorato torinese e finalmente la prodo a Venezia con il mitico seminario del giovedì i mille incontri in cui lui scopriva i talenti di ogni allievo e ogni allievo scopriva i suoi la comunità del lavoro i progetti le tesi la libertà di sapere e il sapere che libera dai pregiudizi e dalle false coscienze ma di questo vi dirà fra poco Paolo Taggini ecco se fossi Scipio Slataper anch'io mi rivolgerei a voi a questo punto con il celebre triplice vorrei dirvi sì vorrei dirvi vorrei dirvi vorrei dirvi ma voi siete furbi e non mi credereste e allora in chiusura mi limito a ricordare un paragrafo di Michel Deserteau intitolato leggere conversare abitare cucinare nel libro l'invenzione del quotidiano a che mi serve questo appiglio al grande libro di un gesuita di grande spessore per chiudere la presentazione del libro di un grande laico notoriamente anche molto anticlericale ve lo dico subito il settimanale l'espresso nel 1987 incaricò una delle sue firme più prestigiose Federico Bugno di procurare ai lettori un atlante in più puntate dei salotti di campagna italiana la prima puntata uscita nel numero 13 del 5 aprile 1987 Bugno la scrisse dal Veneto e la intitolò Asiago altopiano galeotto ed eccovene un brano passeggiate nei boschi escursioni alla ricerca della prima e dell'ultima neve memorie storiche molti attirati dai motivi più vari scrittori e studiosi divi e giornalisti si ritrovano ad Asiago molti sono gli storici prosegue Bugno oltre a Mario Esmenghi ci sono Gian Piero Brunetta Emilio Franzina Silvio Lanaro Gianni Piero Pan Asiago e la piccola Atena Veneta è solito ripetere lo storico Mario Esmenghi fine fine della citazione e ritorno quindi a Michel Deserteau con l'ultima citazione la storia comincia a rasoterra con dei passi il numero dei passi non si può contare perché ha un carattere qualitativo esprime uno stile di apprezzione tattile ecco questo libro è molto prensile molto tattile io mi sono messa a rileggere per fare una lista un po' capricciosa e c'è materiale davvero per un centinaio di tesi di laure e una almeno dovrebbe essere dedicata al trio Ismenghi Lanaro Franzina è un libro molto prensile è molto tattile vorrei dirvi anche molto musicale è un esempio di quella che di quello che una volta Emma Gianmattei ha definito l'ethoslarico della della scrittura grazie 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 Valeria il tempo è veramente volato la tua esposizione è stata sicuramente erudita io andrò un pochettino a briglia sciolta però appunto il tempo è tiranno quindi se magari già giusto per intervallare cambiare un po' il ritmo del nostro intervento già il professore Ismenghi vuole dire qualcosa in proposito dell'acquisizione di Valeria che io credo abbia apprezzato molto perché è stata una un saggio quasi da questo punto di vista ha imparato bene Valeria potremmo dire così sono drogato da queste presentazioni virtuali in cui sembra che abbia scritto un libro bellissimo diciamo in sintesi e mi fa molto piacere ma Valeria non sapevo bello a questo punto ma comunque ti ho ascoltato in religioso silenzio mi hai dato un sacco di spunti che è impossibile temo a quest'ora raccogliere anche perché se non sbaglio Paolo Tagini deve avere un po' di tempo per riprendere la parola secondo il programma e quindi riprenderò solo qualche due degli spunti e parlerò io ho fatto tanti appunti ho cercato di fare la selezione degli appunti cerchiando i punti più importanti ma sono troppi anche questi e quindi in realtà in realtà sarà la selezione la selezione ma partirò da questo il silenzio del 43 il silenzio dei genitori fascisti che allontanano il bambino dall'euroepoca che si chiude poi per quanto li riguarda decideranno il proprio ma il gesto di separazione è quello le bratelle tagliuzzate votate via la piccola foiba domestica da una parte è questo dall'altra e pochi anni dopo ancora bambino appena più grandicello le affabulazioni continue arriva di zia Antonietta la mia nonna paterna sostanzialmente tra il silenzio e le affabulazioni Valeria Mogavero ha parlato di ricerca degli indizi sì ma all'interno dei silenzi e all'interno delle affabulazioni anche perché all'interno delle affabulazioni della grande narratrice c'erano molti silenzi Valeria ha ditato il silenzio sul Garibaldino e se i Garibaldini erano mille quantomeno quelli della prima spedizione di questa stiamo parlando non è che ci siano tante famiglie in Italia che possono dire nella mia famiglia c'è stato un Garibaldino per il male o per il bene poi a seconda del giudizio politico se le può dare quindi è una cosa straordinaria ma non me ne ha mai parlato dunque dentro l'affabulazione che era continua sulla sua famiglia sulle varie generazioni dal suo grande clan domestico si annidava questo silenzio perché certo erano i snenghi non erano da rì cioè era la famiglia con cui una sua sorella Alice la mia effettiva nonna si era sposato con un Enrico perché il nome si ripete anche questo è un segno quindi io sono assolutamente d'accordo con te Valeria quando dici che ho senza saperlo cominciato a ricercare indizi quando ero bambino il problema quando arriva il tempo dell'Iome che reinterpreta Carlo Altoviti di Nievo perché di questo si tratta quando arriva il tempo delle mie confessioni di un attuazionario è avere buona memoria e questo è uno strumento assolutamente essenziale se no niente in questo libro il problema è rimettersi sulla lunghezza d'onda dei silenzi e delle affabulazioni e poi dico il vero o non dico il vero io dico che dico il vero è assolutissimamente solo il vero come pare a me è un bel po' di tempo che ho adottato la parola percezione per riconoscere che oltre all'oggettività del vero c'è la soggettività del vero creduto tale e qui io penso che mi sia servito cominciare non da storia contemporanea come materia di insegnamento ma da storia del giornalismo all'inizio della mia carriera quando contemporaneamente insegno in un istituto tecnico di Badova nella facoltà di scienze politiche di Badova si trattava di ragionare con questi strani fatti che non erano fatti erano factoidi o meglio erano nei giornali quelli che io ho imparato a nominare e a presentare ai miei allievi come fatti di secondo grado rispetto ai fatti di primo grado cioè ai fatti che un giornale quotidiano non ha il tempo di accertare ma ne scrive lo stesso e rieccoci allora ad avere a che fare con diversi livelli della realtà perché era banale e riduttivo dire ci sono i fatti e poi ci sono le menzogne dei giornali non si tratta di questo perché chi legge il giornale non so se adesso ma allora molti pensavano di leggere cose realmente accadute e lì bisognava invece a lezione discutere di questa stratificazione complessa in cui c'erano diversi livelli di realtà di nuovo gli indizi la realtà aveva disseminato degli indizi il giornalista di un giornale quotidiano ha e non ha il tempo di districarsi tra gli indizi ma lo storico del giornalismo che legge il giornale 50, 100 o più anni dopo può e deve ragionare sugli indizi ma poi c'era tutta la scoperta dell'universo del giornalismo popolare cattolico io l'avevo scoperto nella sua potenza sulla mia pelle perché era l'amico del popolo della diocese di Belluno che mi aveva praticamente fatto licenziare dall'istituto di Feltria pure chi ne sapeva niente allora dei giornali diocesani questi settimanali che non arrivavano almeno allora all'edicola per cui bisognava essere dei cattolici militanti frequentatori abituali di chiese e sacristie per trovargli offerti magari self-service o per essere addirittura abbonati beh che fatti c'erano dentro questi settimanali che erano nati constatavo tutti verso 1880 90 esistevano da 90 100 e più anni che fatti c'erano c'era l'ideologizzazione dei fatti all'interno di supposizioni attese specifiche di un mondo che viene costruito anche attraverso questa scrittura e lettura e questo è uno dei grandi settori che mi sono messo ad esplorare in quegli anni di Padova il giornalismo cattolico e naturalmente questo serviva anche a fare storia del Veneto a stare c'è stato un momento in cui Valeria ha ricordato le dinamiche dello stare e dell'andare ma questo è quello che io Silvio ed Emilio Silvio Ranaro Emilio Franzina e tutta la varia e vasta figliolanza accademica e non abbiamo cominciato a fare tanti anni fa stare ed andare noi non ce ne siamo andati dal Veneto noi siamo stati dentro al Veneto ciascuno al suo diversi io ti tenevo molto alla mia venezianità certamente lo ammetto rispetto allo schio malo di Silvio e al Valdagno Vicenza di Emilio però eravamo un soggetto storiografico collettivo e validamente associato proprio anche perché potevamo gettare sonde in Veneti diversi imparando appunto e raccontando che esistevano Veneti diversi tu vuoi capire il Veneto solo da Venezia capisci nulla sono soltanto i leghisti ad adesso che fanno rendono innamorati reciprocamente di sé Venezia e il Veneto ma non è vero niente le cose sono state sempre molto più complicate naturalmente essendoci anche dei grandi scrittori del Veneto riecco le percezioni altrui come mattoni di un edificio che si andava disvelando il Veneto appunto già ma dove arriva il Veneto a saperlo quando Inaudi ci ha fatto fare il Veneto in Audi il libro è uscito nell'84 non volevamo certo fare la storia della regione Veneto in senso amministrativo si importava poco nulla della regione in senso amministrativo il Veneto era molto più esteso qualche friulano si è risentito del nostro imperialismo venetocratico che d'altra parte si spingeva anche molto più là sulle orme della Serenissima e quindi comunque ci stiamo aggirando continuamente tra fatti di primo e di secondo grado supposizioni ideologie eccetera eccetera la letteratura mi serviva e come essermi formato nel mondo dei possibili invece che nell'univoco presumibilmente mondo della realtà storica oggettiva quindi gli intrecci tra la letteratura la parola è molto latta va intesa appunto nel senso che allo scrittore è consentito da tutti inventare inventare mondi anzi sì gli è richiesto allo storico no e quindi io sono anfibio ma Venezia non è anfibia dunque di nuovo l'influenza di Venezia qui anche Tagini all'inizio aveva parlato ragionando di Venezia poi ha continuato Valeria la copertina la copertina è Venezia ma è Venezia vista dalle altane vista in una prospettiva che non è di tutti le altane sono tantissime sui tetti di Venezia ma mica tutti hanno la possibilità di andarci di vedere questa Venezia dall'alto dove c'è l'alto ma tu intravedi anche il basso allora questa stratificazione di nuovo la stratificazione gli indizi e dunque Venezia come sorgente rispetto a un modo stratificato di fare storia chiedo al direttore d'orchestra per quanti minuti vado avanti prima che la gente si stanchi io naturalmente di materiale su cui rispondere ne avrei tanto però vedo che ora è ditemi voi cosa devo fare professore può proseguire ci mancherebbe siamo solo felici di ascoltarla quindi si prenda tutto il tempo che vuole volevo soltanto mi dicesse questo ma volevo esserne autorizzato ufficialmente certo ci mancherebbe certo mi ha facoltà d'accordo hai l'idea del martinazzoli venito no Valeria mai no non c'è mai stato in nessun momento la possibilità che io diventassi un democristiano mentre c'è stata come la possibilità che io diventassi un cattolico di sinistra forse lo ero forse lo sono stato per un po' ecco ma neanche appunto un personaggio presentabilissimo e colto come martinazzoli mi va bene quando hai parlato di Bassano bello non era soltanto un rivolgersi ai nostri ascoltatori bassanesi ma effettivamente anche qui una bella stratificazione un esempio ben scelto per dire una stratificazione però se non sbaglio tra l'altro sei dimenticato uno di strato molto importante invece le stampe dei remondini dal bacco queste sono molto importanti perché significa immaginario ricalcato e mandato in giro per l'Europa per centinaia d'anni figure immagini che anche l'analfabeta come tanti erano allora può apprezzare sì certo ma Bassano e Remondini sotto sotto la protezione della grande editoria veneziana quindi rimandiamo di nuovo ad una ad una Venezia stratificata anche in questo senso non solo temporale nei secoli scorsi grande editoria tanti libri manuzio le stampe eccetera ma anche nel senso che le immagini moltiplica e d'altra parte la città è costruita sull'acqua e dunque Venezia è per definizione riflesso di se stessa quindi la faccenda della Venezia come sorgente la mia storiografia mi sembra sempre più vera questo tema l'avevi già inserito anche nella presentazione di Verona oggi l'ho potuto risentire nel frattempo ci avevo pensato sopra mi sembra molto giusto e in fondo il bello di queste presentazioni di questi ragionamenti che stiamo facendo qua e là è che in una certa misura anche servono a chiarire il libro non solo agli ascoltatori ma agli autori questa faccenda dell'alto e basso vista dall'altana di casa Scarpari non ci avevo pensato e anche questa Venezia sorgente di realtà molteplici molteplici avete presente quando sul Canal Grande poco pulito si sofferma una macchia di nafta brutto però se hai la fortuna di impugnare una macchina fotografica e c'è il sole gli scintillì che si sprigionano da quella nafta sul canale ondeggiante l'acqua moltiplicano una volta di più la realtà e la realtà è questa e quella e quell'altra ancora ma allora quale affidabilità ha un tizio che dice tutte queste cose sulla stratificazione della realtà sui fatti secondo grado eccetera e poi ad un certo punto si mette a organizzare una bella squadra di colleghi per fare i luoghi della memoria e pretende con questi tre volumi laterziani che hanno avuto anche una certa fortuna un certo esito mi sono venuti dietro molti lettori nella scommessa che davvero i luoghi della memoria possano essere di natura collettiva e non soltanto propria e individuale su questo c'è un episodio all'interno del libro in cui io discuto con il mio vecchio compagno di scuola e anche grande amico dell'adolescenza che possiede tutti gli strumenti del mestiere per addentrarsi per l'appunto nella psicologia o diciamolo pure nella psicoanalisi e che in un certo punto della nostra vita a metà strada tra i fatti più lontani e la scrittura dell'adesso mi ha spiegato che non esiste una memoria propria comunicabile agli altri non avrei dovuto occuparsi dunque dei luoghi della memoria io l'ho fatto lo stesso ma sentendo incombente sopra di me questo giudizio tecnico sulla impossibilità di riconoscere una memoria d'insieme perché ciascuno ricorda quel che vuole quel che gli viene con meccanismi che che si ripetono ma in maniera varia per ciascuno io sono andato avanti per la mia strada ma appunto con questo dubbio che purtroppo ha trovato conferma anche all'uscita di questo libro io non sono riuscito a proseguire questa discussione sulla plausibilità della memoria con questo personaggio tanti personaggi vivi e non più vivi sono riemersi in questo ormai mezzo anno dalla uscita del libro è tutta una serie di messaggi nessun altro mio libro aveva suggerito un simile indotto telematico evidentemente perché è un'autobiografia che nel lettore solleva empiti autobiografici e biografie parallele e restiamo comunque all'interno di questo universo complesso di immagini che si relazionano l'una all'altra e relazionandosi prendono forma mentre vi ascoltavo e sentivo nominare la letteratura come fondante più volte io nel mio quaderno numero 84 tocca all'84 adesso quanti di questi quaderni ho scritto mentre vi ascoltavo teatro il passo avanti che ho fatto teatro cioè in fondo anche il mito della grande guerra convoca nel teatro della vita collettiva tutta una serie di persone in fondo anche quando di recente assieme a Paolo Pozzato che ci ascolta abbiamo scritto il libro Marsiglio oltre Caporetto anche in questo caso abbiamo mosso una serie di attori comprimari comparse vederli in movimento come fa il teatrante è di più di quello che può fare lo scrittore che può sì in una certa misura imprimere dinamiche in movimento anche ai suoi personaggi ma certamente il teatro di più ora nell'ultimo decennio da quando c'erano più le lezioni per fare teatro a Ca' Foscari o nella università del momento la storia venendomi incontro mi ha fornito grandi anniversari che mi hanno permesso di fare teatro invece che a lezione nei cicli dell'Ateneo Veneto o di altri luoghi di Venezia in cui ho parlato nel 2011 del centocinquantenario nel 14-18 del 14-18 nel 14-18 del 14-18 sì certo ma di cento anni prima il teatro di cento anni prima teatralizzato cento anni dopo sapendo tutto quello che è successo nei cento anni e mezzo e cioè non solo la storiografia che c'è stata con cui ovviamente bisogna fare i conti e che si è mossa mica è rimasta ferma di cui io facevo parte ma sono contemporaneamente personaggio relazionato eccetera ma oltre agli studiosi che studiavano la prima guerra mondiale lungo questi cento anni il teatro era dato da quelli che avevano fatto la guerra dagli ex combattenti le loro vite spese a 20 o 30 anni per fare la guerra se campano vanno avanti ancora per decenni allora quante zie Antoniette in divisa ci sono stati in realtà dopo la prima guerra mondiale per raccontare in famiglia o all'osteria le loro gesta quanti micro dannunzi con gesta di fanteria invece che di aviazione e di mare quindi gesta estremamente più opache più grigi ma questa era la realtà la vera realtà della grande guerra era appunto la fanteria non certo il Mars o l'aereo però ce ne sono anche quelli e quindi volendo tenere tutto insieme il racconto doveva tenere conto dell'individualismo elitario non solo Valeria Mogadro ma anche altri miei presentatori di Rettuale di qua di là mi parlano continuamente della filigrana elitista che percorrerebbe certo che sì non si può negarlo io non ho nulla contro l'elite meglio se sono elite populiste questo mi pare che intrecci opportunamente la stratificazione sociale con cui la storia continuamente ci fa incontrare quante volte sono state chiama l'elite alla francese chiama le amministrazioni ignoranti chiama le avanguardie chiama le come le vuoi ma ogni volta che c'è stato uno stacco nella storia e la storia è ricominciata e ha chiamato ad esserci erano i mille mica tanti di più mi fermo qui e se no il professore si ascolta ben volentieri ma appunto dicevamo il tempo corre velocissimo e io mi limiterò a questo punto a come dire a una suggestione che mi è venuta leggendo il libro e anche a quello che mi ha sorpreso di questo libro appunto avendo visto e avendo convissuto appunto dei momenti di ricerca negli anni della mia formazione appunto quando anzi ho ripescato in vista di questa presentazione il mio primo quaderno il mio primo diario ecco del seminario laureando adesso non si può leggere ma laureando Paolo Taggini 24 ottobre 2002 il professore ci ha sempre insegnato che le date insieme alle parole sono molto importanti e questa ha una ricorrenza molto particolare ricordo che era stata scelta anche apposta da questo punto di vista poi fra l'altro giro la pagina mi trovo subito dei colossi dei macini da leggere potremmo dire così Lucien Fevre il Reno e Marc Bloch la strana disfatta ci sono queste cose qua poi nel libro lo racconta ma partiva sempre un po' da queste cose il professore questo dico perché perché è ecco la suggestione la domanda che mi sono fatto poi leggendo questo libro è quanto quante parole lui lascia mette nero su bianco il ricordo appunto da quello che io stesso insieme a tanti altri studenti avevano vissuto cioè il seminario laureandi questo microcosmo alla malvasia che io ho vissuto in particolare non l'aula allena ma se non qualche volta quando non era possibile andare in malvasia ma si stava soprattutto appunto nell'edificio attaccato al dipartimento degli studi storici di Santa Maria del Giglio ed è un microcosmo se vogliamo che cosa può interessare al lettore una storia del genere questa è una domanda che mi sono che mi sono fatto e come dire anche come dire in veste pubblicato con l'auditore nazionale quindi con un uditorio probabilmente molto ampio che significato possiamo dare a questo racconto in verità poi leggendo gli appunti vedendo scoprendo determinate cose io ho qua ho un primo il primo questo è il numero l'anno primo numero 3 notizie dall'istituto siamo dell'Iverser siamo nel 2003 novembre 2003 non c'era ancora internet si facevano ancora i comunicati degli istituti di resistenza in questo modo e qui compare una mia recensione al ritrovare se stessi viaggio italiano attraverso le scritture le voci i volti dei diari della Sacker ecco io sono in questo fascicolo in questo ciclostile potremmo dire così ma avevo 23 anni noi ci siamo ritrovati a vivere all'interno di un contesto in cui noi siamo stati apprendisti storici e la cosa è stata una forza incredibile non solo per poi per chi ha proseguito ma noi penso che tutti quelli che hanno frequentato il seminario si sente storico è storico non è solo laureato in storia è storico perché ha frequentato quel seminario con il professor Isneghi proprio perché ci troviamo di fronte a delle sfide innanzitutto andavamo davanti a noi un titano della storiografia adesso magari se riesco vi mostro qualche qualche foto per farvi capire meglio un pochettino noi sbarbatelli noi giovani di fronte appunto a a tanta esperienza a tanta importanza a chi aveva scritto che scriveva bene che parlava bene e noi che stavamo là a imparare e ci impegnavamo ci siamo impegnati a frequentare questo seminario la cosa interessante messa nel libro è che questo episodio ci racconta un metodo un metodo che all'università sarebbe stato fondamentale se fosse stato come dire passi per tutti non è stato così in altre situazioni che ho vissuto per esempio anche al dottorato nel senso che per esempio già da laureanti il professore era catalizzatore di energie avevamo visto questa rassegna mi ricordo dei diari della Sacker la casa di produttrici Tanni Moretti ne avevamo scritto si è stato incitato a scrivere a fare una recensione andava bene era bella troviamole un'altra collocazione fuori dalla malvasia ma rendiamola pubblica e questa è dare responsabilità responsabilizzare e non è una cosa da poco ed è una cosa che poi io per esempio ho ritrovato anche nel mio percorso io ecco ho avuto una rotta con l'università mi sono spostato su altre su altre su altre vie però ritrovo una forza dietro questa cosa qua il fatto di trovarsi di fronte per esempio a situazioni di confronto e dover mantenere un metodo dover mantenere il c'è giro qualche pagina sempre di questo mio quadernino e ci sono le indicazioni che ci dava il professore per una scheda 30 righe 2000 battute quello era per una recensione 90 righe 6000 battute e poi dovevamo fare la dovevamo laurearci tutti quanti dovevamo preparare il discorso il discorso doveva durare 10 minuti non potevamo cambiare non potevamo improvvisare altre cose questo era un metodo la frequenza la ma anche la responsabilità che ci dava vi mostro una foto in velocità anzi due foto che così si può che ho ritrovato questa è la prima anzi parto da un'altra foto un attimo solo ecco qua ecco ripeto io vado più a briglia sciolta come si diceva qua siamo alla malvasia qua siamo alla presentazione c'è la rassegna sulla biblioteca antifascista letture e riletture della resistenza c'erano dei grossi nomi c'era Paolo Pupa mi ricordo c'era adesso se scorro l'indice praticamente si attraverso la letteratura sulla resistenza e sono stati invitati studiosi dell'università a raccontare questi i giorni veri Giovanna Zangrandi per esempio Paesà Paolo Pupa Lorenzo Bianchi che raccontava Beppe Fenoglio Jay Monat le lettere condannate a morte della resistenza italiana però ricordo che ci disse ragazzi preparatevi e noi ci preparammo anche noi avevamo letto io sul banco si può intravedere i piccoli maestri di Meneghello e mancavano 20 minuti al pranzo si sa che tutti quanti vogliono andare al pranzo eppure il professore disse vuole qualcuno venire a dire la sua in questo caso a intervenire anche lui e mi ricordo che in quel caso ho preso un po' di non so da un po' incoscienza mi presentai io e raccontai appunto la mia lettura di Meneghello ma quindi come dire io qua avevo 23 anni appunto sbarbatello ma si trattava di parlare di fronte ai miei storici e di fronte ai propri compagni anche si trattava di fare un esercizio una prova un allenamento se vogliamo ma è apprendistato questo dello storico non capita tutti i giorni di trovarsi da laureano da studentello ancora ancora magari non si avevano finiti gli esami di fianco a uno storico di così grande importanza mi piace portare anche questa foto anche perché poi si intravede il pavimento alla veneziana della malvasia in cui il professore ne parla perché proprio era una particolarità dell'aula molto ondulato molto particolare ma era proprio caratteristico di questa cosa di questo luogo che poi diventa è diventato anche un luogo della memoria luogo della memoria del seminario laureandi e vi mostro un'ultima foto che è questa sempre strapolata dal dagli archivi potremmo dire così della memoria non so se si vede qua siamo nel 2003 siamo nell'agosto 2003 siamo a Torre Pellice al convegno di Piero Jaillet e vedete qua c'è tutti ci siamo tutti potremmo dire sono tanti amici cioè io sono io sono l'unici con la cravatta siamo io e Giorgio Rochard vicino al professore però ecco Giorgio Rochard è un altro grossissimo calcolo della letteratura italiana ma noi ci troviamo in questo contesto a vivere la nostra formazione di fianco a me c'è Lisa Bregantin Eva Cecchinato Gianluigi Gatti è il polo Venezia Torino ecco un'altra delle dicotomie particolari che in cui volevo dire prima Torino ne parla professore la sua vita torinese in questa città squadrata molto differente molto completamente diversa da Venezia tutta così aggrovigliata su se stessa Venezia rispetto a Torino però è qualcosa che attira il professore attira il giovane professore universitario ed ecco un'altra cosa ecco interrompo qui mi sono permesso mi scuseranno chi è presente in questa foto ma mi sono permesso di mostrarla perché almeno eravamo ancora molto giovani e quindi giovani e forti e quindi penso che insomma non sia troppo di disturbo ed ecco quindi l'importanza anche di questo degli episodi quello che racconta di come si svolgevano questi momenti alla malvasia diventano il racconto di un metodo storiografico che poi scusate di studio della storiografia ma di apprendimento storiografico meglio che poi probabilmente con anche le riforme universitarie con i ritmi che ci sono adesso non so quanto potrebbe essere possibile ancora fare ed è un peccato da questo punto di vista però l'esempio c'è chi lo sa ma è che si possa in qualche maniera anche riprendere qualcuno possa prendere spunto per continuare quello che in questo caso ha fatto mario snenghi che è diventato un po' il maestro di tanti se appunto riprendete se riuscite a leggere qualcosa di questo di questo libro fatto per il suo settantesimo anniversario tanti sono tanti sono quelli che lo giudicano il suo maestro proprio per questo motivo Livio Vanzetto nel contributo scrive proprio come titolo il maestro il professore snenghi sapeva suscitare interesse e partecipazione ricordo che grazie a quell'esperienza provai per la prima volta la soddisfazione di poter utilizzare finalmente le conoscenze teoriche accumulati in tanti anni di studio per produrre qualcosa di mio di originale e nuovo e anche Ilvio Diamanti è stato un alunno del professore snenghi e addirittura snenghi anzi Ilvio per un caso un episodio molto particolare doveva fare l'esame con il professore aveva portato anche lui un contributo scritto però non riuscì ad arrivare in tempo a fare l'esame aveva avuto un incidente all'auto non partiva più l'auto e chiama la segreteria dice che ha il ritardo e il professore snenghi lo attende atteso anche molto vediamo se riesco attraverso la segreteria del ritardo non esiste ancora il cellulare poi ripartì c'era questo problema meccanico in autostop il Dio Diamanti va a fare l'esame con Mario snenghi in autostop quindi arriverà non arriverà però snenghi mi attese parecchio dice ero l'ultimo però cosa fece non si arrabbiò anzi tutt'altro ma mi gratificò molto mi spiegò che avevo fatto un buon lavoro e poi questo lavoro di Dio Diamanti andrà a finire in una pubblicazione e quindi qua si capisce la forza del maestro l'importanza che poi ha avuto proprio perché c'è la riconoscenza si riconosceva di essere maestri ma si riconosceva anche l'importanza di avere un certo tipo di rapporto con l'insegnamento e anche di rispetto verso i propri allievi un'altra cosa brevissima che mi ha colpito del libro è che forse per la prima volta i snenghi non usa il consueto fioretto quando scrive e quando parla lui di solito appunto è molto accurato con le parole ci tiene l'abbiamo capito e in questo libro però vediamo che non le manda a dire tutt'altro soprattutto poi nella seconda parte quando racconta dei vari intrighi accademici che ci sono stati magari che l'hanno tenuto un po' di nascosto a sua insaputa e questo non è usare il fioretto è usare la spada quasi ok quindi questa è una cosa che è stata abbastanza sorprendente che si esponesse anche in questo modo un'ultima cosa è anche il professore sbaglia anche il professore ha avuto degli insuccessi noi diciamo come allievi ci troviamo di fronte a veramente un un colosso della storiografia in cui sarà difficile probabilmente emulare le geste però leggere questo libro ci come dire ci fa scoprire che anche il professore ha avuto i suoi no ha avuto bisogno di qualcuno che lo portasse chi ti manda a Torino chi ti manda da chi sei come chi ti porta scusi chi ti porta ecco chi ti porta chi ti porta e poi anche un saggio su Garibaldi fu rifiutato al professore anzi vediamo se riesco anche a recuperare quello che scrive a proposito siamo nel nel centenario della morte di Garibaldi giovane Isnenghi viene commissionato questa questa biografia per per Garibaldi per una casatrice anche importante studia fa ricerca accumulo lettere e schede scrive sul personaggio scrivo vorticosamente centinaia di pagine e arrivo a consegnare i dittà lo scritto in estremis ma non va bene l'anonimo consulente lettore incaricato di valutare il testo fa una serie di rilievi e dice in sostanza che è scritto male anche Isnenghi scrive male com'è possibile questa cosa noi in fondo siamo che cosa siamo la sintesi il mix dei nostri successi e degli nostri insuccessi sicuramente gli insuccessi di Mario Isnenghi non sono tanti però ci sono stati e questo ci dà un pochettino più di speranza ecco così grazie tanto subito questa è la sintesi grazie ma devo parlare ancora no vediamo cosa dite lascerai la conclusione al professore se il professore vuole chiudere con una con qualche battuta con qualche ulteriore riflessione poi possiamo salutarci grazie no volentieri perché è la prima volta in tutte queste presentazioni virtuali che un redattore è in grado e riesce a raccontare i seminari laureanti a cui io nel libro do tanta importanza come tanta importanza ha nella mia memoria e ha avuto nella mia vita però naturalmente non è che i testimoni possano essere esterni a quell'esperienza quindi venendo a Bassano a me è venuto in mente di suggerire il nome di Paolo Faggini perché so che è da queste parti e forse anche perché non ci frequentiamo più per motivi di lavoro da tanti anni immaginavo e avevo ragione che avrebbe potuto sentirsi sufficientemente distaccato per oggettivare quell'esperienza ormai lontana nel tempo di un bel po' di anni e dico che si è pienamente riuscito Tazzini mi è piaciuto molto ho ripassato le cose che conosco bene che sono dentro di me io amavo molto più l'Aula Lane perché dai nella luce lattiginosa della malvasia è orrenda quella luce era chissà mai quel palazzo è chiuso da quando ci siamo andati via noi salvo una parte della malvasia che è diventata un pezzettino da biennale ma il dipartimento purtroppo è chiuso Paola Lane invece aveva un calore una luminosità però era pertinente alla prima generazione e lei Tazzini fa parte della seconda generazione come ho visto che vi siete detti in più di uno compreso qualche presente in una certa discussione telematica che c'è stata qualche mese fa quando il libro è uscito ma insomma a me piace molto l'aggettivazione al superlativo e devo dire che voi due non me ne avete fatto mancare questa sera però a me ti ascoltavo insomma mi piacciono i superlativi e spero che abbiate almeno in parte ragione però potrei dirla alla piemontese è l'unico lassito che mi viene da Torino dal punto di vista reale esageruma non esageriamo scendiamo un pochettino ma insomma sono stato per due ore in alta montagna io sono abituato all'alto piano non mi pare che basti sono sempre mille metri grazie a tutti grazie professore davvero per queste belle parole per questa conclusione da parte mia ringrazio Valeria Mogavero scusi per il suo dotissimo e affascinante intervento Paolo Taggini anche lui naturalmente lo ringraziamo e ringraziamo tutti quelli che hanno voluto seguire l'incontro che sarà possibile anche riascoltare sulla pagina sul canale YouTube della Biblioteca a partire dai prossimi giorni a tutti diamo appuntamento al prossimo incontro di Venerdistoria il 26 di marzo e di nuovo ringrazio il professore Ismenghi grazie a voi è stato per me molto bello grazie grazie davvero grazie